ricotte mi sembra dai boh siamo al parcheggio del pelvi del pelvi e dove dobbiamo andare lassù video ma che roba esatta di là di là adesso ci arriviamo dopo la pubblicità stiamo facendo i furbi bravo ammitorato vero a 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 sorgente non rischiamo siamo venuti qua ci sono i crepacci siamo in un punto safe hanno imparato le lezioni ragazzi se le cercano è l'uovo di nascita la sorgente di tutto bellissimo io non sono mai stato neanche io la prima volta per me su un ghiacciaio sensazione bellissima è veramente bello si potrebbe anche fare questa culata ma ci vuole l'attrezzatura adatta perché rimandiamo alla prossima ce ne stiamo di quello che abbiamo fatto tutti legati sono legati incordata e noi non eravamo preparati per questo forse il resto del gruppo si ci sono la sua vogliamo concludere per loro però grazie 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 grazie